Benvenuti. La lezione di oggi ha per oggetto il Quattrocento. Il Quattrocento è un grande secolo, forse un po' meno conosciuto nel contesto della letteratura italiana, ma in cui accadono delle cose veramente straordinarie. In genere il grande tema del Quattrocento culturale, letterario, artistico italiano, è la diffusione dell'umanesimo. Che cos'è l'umanesimo? L'umanesimo è una nuova filosofia basata in buona parte su temi platonici, ma anche aristotelici, che sigilla una nuova visione della realtà. Questa visione della realtà è basata su uno spirito più accentuato di laicità, su una concentrazione dell'uomo su se stesso, su se stesso come essere libero, su se stesso come, in un certo senso, intermediario addirittura del rapporto fra terreno e trascendente. Una visione più serena, meno occupata, come accadeva per la verità qualche volta nel Medioevo, da terrori post mondani. Pensiamo con il grande rispetto che gli è dovuto a Dante nella Divina Commedia e questa visione nuova del mondo naturalmente produce, come sempre accade, una nuova poesia. Ora, non vorrei darvi l'impressione che fino al 1399 c'è il Medioevo più buio e poi con il primo gennaio del 1400 tutto cambia. naturalmente l'umanesimo è la fase conclamata, anche ideologizzata di una visione del mondo in fieri che si svolge attraverso i secoli. Ora, non è che il Medioevo sia così buio come è stato presentato per esempio nell'Ottocento, da un grandissimo interprete di questi temi, il Burckhardt, uno scrittore di lingua tedesca, il quale fece una contrapposizione come la notte del Medioevo che è rischiarata dalla luce del Rinascimento, ovvero dell'umanismo che è nella prima fase. Una visione che fu poi addirittura fatta propria dal Carducci, che in una prosa piuttosto bella presenta gli umanisti che entrano nei chiostri medievali, nelle biblioteche dove trovano solo polvere, ragni eccetera e aprono le finestre, fanno entrare il sole, ritrovano gli antichi codici e ecco che comincia un periodo solare che è quello dell'umanismo. Naturalmente elementi umanistici sono già in quello che noi chiamiamo il Medioevo, addirittura in Dante sono stati ritrovati, basta pensare al grande rispetto di Dante per Virgilio e per temi correlati a questa funzione di guida di Virgilio, ma ancora di più in Petrarca è Boccaccio, Petrarca che è il primo degli umanisti italiani, il primo che ha degli interessi veramente filologici, anche se non si può parlare di filologia vera e propria ai tempi di Petrarca, è Boccaccio anche, il Decameron è già una visione estremamente più serena della realtà e sono molti gli aspetti non più medievali del Boccaccio o comunque appartenenti a un Medioevo che non è più il Medioevo che in genere noi vediamo nella nostra immaginazione come tipicamente medievale, un Medioevo più laico, più attento ai temi della vita quotidiana, più concentrato sulla vita di questo mondo piuttosto che su quella dell'aldilà, anche se l'aldilà non viene naturalmente cancellato e così anche nel periodo umanistico, non è che diventano blasfemi, riverenti o addirittura miscredenti, solo che sviluppano una religione più a misura d'uomo, una visione delle cose celesti meno terrificante e naturalmente ripeto tutto questo produce lo sviluppo di una letteratura e di un'arte figurativa importantissima notevolmente diversa da quella medievale, propriamente medievale. Ad esempio se ci fermiamo un attimo a esaminare certi connotati dell'arte figurativa del Quattrocento vediamo che la tipologia medievale dei visi, degli ambienti, sempre un po' convenzionali, viene completamente rinnovata, si comincia con Giotto addirittura questo processo ma poi sarà conclamato evidentissimo nei grandi pittori del Quattrocento, questo appare un pochino anche nella cultura dell'umanesimo. La cultura dell'umanesimo naturalmente è molto ricca di poeti e prosatori, cioè dovremmo parlare a lungo di tutto questo, il che non possiamo fare, ma parleremo di quelli che rappresentano più intensamente questo periodo di rinascita, come fu definito poi, dello spirito e anche delle lettere umane. Con una premessa, vi ho detto poco fa che non esiste una vera coscienza filologica, perlomeno dal punto di vista tecnico nel Medioevo, mentre il Quattrocento è il secolo della nascita della filologia. Cos'è la filologia? Ma è una parola filologia che viene dal greco, letteralmente sarebbe amore della parola e in un certo senso questo è, cioè nel Quattrocento ci si pone tecnicamente, seriamente il problema del recupero degli antichi testi della cultura classica, solo che questi testi che il Medioevo ha conservato perché se non ci fossero stati i monaci amanuensi che nei chiostri, quelli che stavano fra i ragnatelli e nei chiostri copiavano i grandi testi della latinità e anche della grecità, probabilmente il nostro mondo sarebbe orfano della quintessenza dell'humanitas espressa nel mondo classico. Ma il problema è che questi testi sono stati involontariamente per lo più, ma anche volontariamente in qualche caso un po' adulterati. Nel Medioevo non ci si pone il problema del rispetto dell'autore, non è impossibile, anzi è frequente che un monaco un po' più colto, qualche volta è meglio che sia meno colto perché così non capisce quello che copia, però fa degli errori puramente materiali, mentre quello colto decide di inserire, che posso dire, un passo, due versi per chiarire meglio una situazione che sviluppa l'antico scrittore e naturalmente lo fa a modo suo, per cui il problema è quello di ritrovare il vero pensiero degli antichi. Ebbene, ci sono due grandissimi personaggi di quest'epoca, uno è anche un grande poeta, fra poco ne parleremo, un altro è un filologo e uno storico, i quali producono dei miracoli filologici, uno è il poliziano e l'altro è Lorenzo Valla. Il poliziano praticamente crea la filologia scientifica e Valla è autore di quella straordinaria indagine della donazione famosa di Costantino che i papi sbandieravano come la premessa giuridica, la base giuridica del potere temporale dei papi, ebbene Valla con argomenti di pura filologia, esaminando la scrittura, esaminando la qualità del latino di questo testo, dimostrò che non era dei tempi di Costantino, ma era del Medioevo e quindi era un falso che era stato fabbricato nelle officine, chiamiamole così, del Vaticano. Il primo autore di cui parleremo dopo questa premessa è Lorenzo dei Medici, ma Lorenzo dei Medici, voi sapete benissimo, non è soltanto un grande poeta italiano e in particolare uno dei quattro, tre, quattro grandi artisti in letteratura del Quattrocento. Lorenzo dei Medici è anche un grandissimo politico, ricorderete che il periodo in cui lui resse Firenze fu un periodo che produsse un miracolo praticamente, erano talmente sviluppate le doti, le qualità politiche di Lorenzo dei Medici che praticamente i cinque grandi stati, grandi si fa per dire, sempre nel contesto della realtà italiana, che non fecero altro che farsi le guerre e allearsi l'uno contro l'altro, a un certo punto trovano in Lorenzo dei Medici il famoso ago della bilancia, cioè Lorenzo fa una politica per cui il suo Stato riesce a mantenere ferme le controversie, nel senso che Firenze, per dire così, si alleava col più debole, rendeva il più debole forte, per cui il più forte e più prepotente doveva fermarsi. Questa politica stabilizza per parecchi anni la situazione politica. È vero che poi questa politica di Lorenzo produsse anche purtroppo una conseguenza forse esiziale e poi nel Cinquecento, poi lo vedremo un pochino poi nelle elezioni sul Cinquecento, si pagò lo scotto di tutto questo, perché l'Italia non riuscì a diventare un grande paese unitario come invece era accaduto dalla Francia, dell'Inghilterra, della Spagna e ben presto ci si accorse che questo equilibrio era in realtà un equilibrio basato su un vuoto di potenza e a fine Quattrocento la prima invasione dell'Italia fatta dai francesi, dei francesi di Carlo VIII, dimostrò a tutto il mondo che bastava scendere in Italia e prendersi quel che si voleva. Naturalmente c'erano poi contrasti con altri che volevano fare la stessa cosa. Tutta la cultura del Rinascimento pieno del Cinquecento sarà influenzata da questa situazione. Questo potere di Lorenzo dei Medici aveva delle basi popolari, nel senso che come era accaduto ai tempi dell'impero romano, gli imperatori romani si appoggiavano molto alla plebe, al popolo, ma in realtà alla plebe, per contrastare il Senato. Lorenzo dei Medici deve fare qualcosa del genere e questo ha una importanza notevole nello sviluppo della produzione artistica di Lorenzo. Intanto non capita spesso che un uomo di Stato, che addirittura un principe sia molto colto, sia addirittura un grande artista. C'era stato nel Medioevo un esempio del genere, Federico II, il quale era persona di cultura straordinaria e parlava indifferentemente il tedesco, l'italiano, l'arabo e ha scritto anche qualcosa, ma non qualcosa di paragonabile a quello che scrive Lorenzo dei Medici. Dunque Lorenzo dei Medici ha un'educazione estremamente sottile, accurata, impara il latino naturalmente, impara anche il greco, ecco cominciano le novità, nessuno sapeva il greco nel 300 o quasi, nel 400 il greco diventa una delle due lingue che bisogna conoscere, le lingue antiche, ma il latino in un certo senso restaurato nell'uso era anche una lingua moderna. La produzione è notevole di questo poeta, naturalmente di maggiore o di minore intensità, ma ci sono delle cose di una bellezza veramente abbacinante. Forse non sono tali le rime d'amore che lui scrive e che un pochino rinviano alla tradizione amorosa che aveva raggiunto già un vertice ineguagliabile in Petrarca e prima ancora nei poeti stilnovisti, eccetera. Ma la produzione più interessante di Lorenzo è quella in cui compaiono dei temi popolareschi, tipo la nencia da Barberino, in cui lui ricostruisce delle atmosfere rusticane e usa un linguaggio che è tutto impregnato di questi elementi lessicali che sono quelli toscani, ma il toscano parlato, non quello santificato e un po' debilitato, meravigliosamente debilitato da Petrarca. Questa parte della sua produzione è forse quella che rimane più interessante. Ma un'altra parte ancora, per esempio quella in cui lui riprende dei temi metamorfici che vengono un pochino da Uvidio, che è il grande sorbatoio della cultura medievale, anche di questo primo umanesimo, per esempio l'idea in cui riprende la storia della trasformazione di Daphne, Daphne l'alloro, la fanciulla inseguita d'Apollo che poi viene trasformata in pianta, eccetera, eccetera, in cui al di là del tema mitologico c'è un'osservazione della realtà quasi lenticolare e vediamo gli animali che si muovono sulla terra e addirittura la formica viene sorpresa in una epifania della sua esistenza. Questo occhio che coglie i particolari, che esprime un'attenzione che la nostra cultura aveva avuto soprattutto con Dante, soprattutto nella Divina Commedia e che sarà estremamente attenuata, per non dire scomparsa del tutto, con Petrarca. Ecco diciamo che Lorenzo è uno che guarda a Dante. Ora, questo sembra una cosa ovvia, no? Ma è ovvio che un poeta così in realtà non è ovvia per niente. Chi conosce la storia della letteratura italiana, soprattutto della poesia italiana, sa che Dante è una meravigliosa pianta, anzi una pianta d'alto fusto, immaginiamocela come una quercia poderosa che però non dà frutti commestibili, nel senso che l'esempio dantesco, soprattutto l'enorme ricchezza lessicale di Dante, la sua inquietudine stilistica, la sua capacità di parlare di tutto con le parole che servono, in quel caso, va quasi completamente perduta nella storia della nostra poesia. Non ci sono esempi di grandissimi poeti di scuola dantesca, mentre è innumerevole la presenza di piccoli, grandi, anche grandissimi poeti di scuola petrarchesca, una scuola petrarchesca da questo punto di vista. Ne vogliamo citare uno grandissimo che guarda a Petrarca per quanto riguarda la lingua, e praticamente non ne cambia l'assetto fondamentale, ma è uno di che epoca, del 400, del 500, del 600? No, dell'800, è Giacomo Leopardi. Il nucleo più vitale in senso poetico, le poesie più belle di Leopardi sono scritte nel linguaggio di Petrarca. Se andate a guardare troviamo le stesse parole, speme, l'alma qualche volta, qualche volta più fortunatamente l'anima, un lessico estremamente ridotto, estremamente intensificato espressivamente, ma è quello. Praticamente la poesia italiana rimane tale fino alla fine dell'800, tranne qualche scossone dato da Carducci, che peraltro si proclamava scudiero dei classici, il grande momento in cui il lessico quotidiano, la lingua parlata, entra nella poesia italiana è databile all'avvento di Giovanni Pascoli, con il suo culto delle piccole cose, con il suo culto della realtà, con il suo culto delle parole che usano tutti e che quindi devono essere usate anche dal poeta, con la sua poetica del fanciullino. C'è un fanciullino anche in Lorenzo dei Medici, c'è una visione della realtà molto particolare, basata sui particolari, attenta alle minime epifanie dell'essere e in questo senso credo che questo poeta non abbia ancora ricevuto quel che dovrebbe ricevere, cioè un'attenzione un pochino più profonda e più positiva alla sua poesia. Si può dire che Lorenzo dei Medici è un grande poeta. Passiamo a un altro personaggio importante, eccolo qua, vedete la slide, l'epos eroe comico del Morgante di Luigi Pulci, chi è Luigi Pulci? Luigi Pulci sta nella corte dei Medici, è un amico personale di Lorenzo, un carissimo amico di Lorenzo, c'era un grande affetto fra i due e poi vedrete che c'era anche una consonanza di impegno letterario, abbiamo detto che la parte più vitale dell'opera di Lorenzo è proprio quella in cui lui si appunta a un mondo popolaresco che lo affascina e di cui cerca anche di riprodurre il linguaggio in qualche maniera. Ebbè, Luigi Pulci fa una cosa analoga, beh, che cosa fa Luigi Pulci? Luigi Pulci è autore di un poema eroe comico, non è autore solo di questo, ma noi parliamo di questo perché è la sua opera fondamentale. Questo poema si intitola Il Morgante. Cosa vuol dire eroe comico? Beh, fino a questo momento la letteratura medievale, a parte la lirica d'amore eccetera, si è sviluppata su dei connotati epici. Epici vuol dire il grande tema è la guerra, è il valore dei cavalieri, la fedeltà alla parola data, la fedeltà alla al proprio Signore e la fedeltà anche alla propria fede. In gran parte il Medioevo, l'epica medievale è rappresentata dagli scontri fra cristiani e musulmani, che già allora furono notevoli e che poi avranno una ripresa nel 5-600, anche se non si parla di arabi ma di turchi in questa seconda fase, la famosa battaglia di Lepanto che sembrò risolvere la questione almeno per il momento. Eoe comico significa che questo mondo cavallerisco viene straniato da una trattazione che lo rende compatibile con la comicità. E infatti Il Morgante di Pulci è una delle opere più divertenti che siano state scritte nella nostra letteratura. È un poema di cui sono protagonisti un gigante, Morgante, che è uno scudiero di Rinaldo, il protagonista, Rinaldo è un po' sempre il protagonista, siamo orlando, eccetera, e Margute, un strano personaggio il quale è un gigante inadempiuto, cioè un mezzo gigante, è arrivato a una certa altezza, aveva pensato che era bene fermarsi e naturalmente questo elemento comico produce l'affioreare di una visione della vita comica. Ora, cosa vuol dire visione della vita comica? Non vuol dire soltanto che fa ridere, ma vuol dire che è una visione della vita basata su un rapporto più stretto con i dati letterali della realtà e meno interessato agli elementi più sublimati della realtà. Cosa posso dire? Le donne sono donne in carne e ossa, il cibo è importantissimo, le vicende che vengono narrate non sono soltanto quelle eroiche, ma per esempio c'è un passo di questo poema, devo dire bellissimo, che io adesso vi racconto perché è troppo lungo, non lo possiamo leggere, lo leggerete voi, e a un certo momento quando si incontrano Morgante e Margute, che poi diventeranno amici inseparabili fino alla morte di tutti e due, Morgante chiede a Margute chi sia e quale sia la sua fede. Ora, ricordate l'episodio di Farinata nella Divina Commedia, no? Vabbè, lì è il tema politico che prevale, ma Farinata quando sente che Dante è fiorentino subito gli chiede chi fuorli maggior tui, cioè tu da che famiglia vieni, quale è la tua parte politica? Ecco, una cosa del genere, che però non è la parte politica, ma in fondo era anche la parte politica, fa Morgante, Morgante chiede di che religione sei, chi sei tu e di che religione sei, questo significava anche di che parte sei politicamente, e Margute fa una meravigliosa professione di fede in cui le cose in cui lui crede non sono né Macometto né Cristo, eccetera, ma sono il fegatello, il prosciutto, il culatello, cioè le lasagne, cioè c'è una sorta di divertente e direi anche straordinaria, espressione di una visione materiale della realtà. C'è stato un grandissimo studioso russo che abbiamo conosciuto in ritardo nell'Occidente, perché i suoi testi risalgono gli anni 20-30 del Novecento, in epoca stalinista, quando era difficile uscire dall'URSS e uscire anche culturalmente dall'URSS, Mikhail Bakhtin, il quale ha introdotto un concetto nella critica letterale, nella storiografia letteraria, che esisteva già prima, come sempre, ma che non aveva avuto quella determinazione così, direi, rigorosa che da Bakhtin. Bakhtin dice che esiste una visione material-corporea della vita che è appannaggio delle classi basse, umili, ovvero di quelli che storicamente sono i vinti, perché esistono gli umili, perché esistono coloro che umili non sono, esistono i servi, perché esistono i padroni, esistono i plebei, perché esistono gli aristocratici. All'inizio di questa formazione, strutturazione sociale c'è un grande conflitto che si risolse con l'assegnazione di queste parti, una parte i servitori, dall'altra parte i padroni. Mentre la parte alta della società ha sviluppato una cultura basata su temi spirituali, per esempio l'umanesimo, ne sarebbe l'espressione proprio, direi, quasi tipica, e infatti l'umanesimo è il prodotto di una corte ultra raffinata, il primo umanesimo fiorentino è la corte praticamente dei medici, e poi nel Rinascimento avremo altre espressioni, ma sempre in quest'ambiente ultra selezionato e ultra raffinato. E poi esiste una cultura che in genere non ha espressione scritta, se non un marginale, che è la cultura degli umili, dei popoli, i quali quasi a contrasto sviluppano il tema del riso nei confronti dell'altra cultura e privilegiano temi material-corpori, ovvero che riguardano la nostra corporalità e quindi, che posso dire, la fisiologia, il cibo, eccetera, eccetera. Ora, questa cultura che viaggia sotterraneamente nella storia, ogni tanto, come l'acqua carsica, viene fuori. Ecco, il Pulci è uno dei primi grandi cultori del tema del materiale corporeo e da questo punto di vista, in un certo senso, c'è una carica addirittura trasgressiva, se non eversiva, nell'opera, in questo poema di Pulci, che però era accordata alla visione della realtà e anche alla cultura di Lorenzo. Abbiamo già detto che Lorenzo pratica un po', non in questi termini così decisi, questa tematica. L'amicizia fra i due finisce, anche se non ci fu mai una rottura formale, nel momento in cui Lorenzo si convertì, diciamo così, più intensamente al neoplatonismo, sentì la prevalenza di Marsiglio Fiscino, che lo informava e in certo senso nobilmente lo condizionava e quindi il Pulci, che invece rimase sempre fedele a questa sua musa, tra virgolette, umile, si allontanò da lui. Angelo Poliziano, il classicismo di Angelo Poliziano, lo abbiamo visto già, abbiamo detto che è uno dei grandi interpreti dell'umanesimo tecnico, ovvero l'umanesimo che non fa soltanto delle dichiarazioni e delle, come si può dire, delle sistemazioni di tipo filosofico, ma sviluppa degli strumenti per rendere reali le affermazioni attraverso dei prodotti storici, attraverso dei puntelli storici, ovvero, come dicevamo prima, la filologia. Angelo Poliziano, la sua vita fu molto breve, arrivò a 40 anni, per i tempi 40 anni non era un'età disprezzabile, ma certamente un ingegno così vivace e così ricco forse avrebbe prodotto anche di più. Le sue opere storico-filologiche le lasciamo perdere in questa sede, sono molto importanti, no? Le selve soprattutto, che sono praticamente l'opera che pone le premesse della filologia applicata al mondo classico. Classicismo significa naturalmente ricerca di quello che vi ho detto prima, di quello che hanno detto veramente i classici e quindi delle vere parole dei classici e quindi uso degli strumenti per ritrovare le vere parole dei classici. Questi classici però non sono semplicemente un vezzo antiquario, è la ricerca nei classici di una visione laica della realtà che si è un po' smarrita nel Medioevo e che aveva dato frutti esemplari all'epoca della classicità greco-romana. Il Poliziano ha scritto in tre lingue, ha scritto in greco, ha scritto in latino, ha scritto in italiano. Il suo italiano è un italiano squisito naturalmente, non è comunque quello del Pulci, ma anche qui ci sono delle glosse più quotidiane, diciamo, più terragne. Il poemetto per cui va famoso sono le stanze per la giostra dedicata a Giuliano De Medici che poi fu ucciso in una congiura, la congiura dei pazzi, per cui questo poema rimase incompiuto. È un meraviglioso testo, scarso di vero spirito narrativo, in cui si vedono quasi delle formelle, come accadeva in certi affreschi medievali e anche quattrocenteschi, ma in cui la capacità di Poliziano di esprimere questo senso della realtà che nello stesso tempo, di prima mano, cioè c'è la freschezza della guazza, della rugiada, ma che è anche supportato da un processo di orchestrazione intertestuale, impressionante. Cosa vuol dire orchestrazione intertestuale? Le stanze della giostra sono strapiene di citazioni dai grandi scrittori latini e greci, ma queste citazioni sono riorchestrate nel tessuto propriamente polizianeo e se ne accorgono, per dire così, solo coloro che sono in grado di riconoscere la presenza di questi frammenti che vengono dal grande passato classico. Chi non se ne accorgesse sente lo stesso, questa freschezza, questa capacità rappresentativa che è un po' collegabile a quella di Lorenzo, ma certamente se questo dato naturalistico, chiamiamolo così, e questo dato colto che vengono orchestrati fra di loro, vengono colti nella loro integrità, sicuramente possiamo dire che la poesia di Poliziano è una poesia tra le più raffinate della nostra letteratura e naturalmente poi avremo nei secoli, basta pensare, primo parlato di Pasquale, c'è qualcosa del genere che fa Pasquale, anche se è un ambito tutto novecentesco, sono i poemi conviviali in cui si parla del mondo antico, ma è tutto trapunto questo mondo antico del moderno, quindi sarebbe in un certo senso il contrario di Poliziano, ma il rapporto tra i due elementi, antico e moderno, è mirabilmente, diciamo così, fuso esattamente come accade nel Poliziano. Eccoci all'ultimo grande poeta del Quattrocento, dico, sottolineo grande perché ci sarebbe da parlare di molti altri, lo aggiungo ancora, il Boiardo, mentre i personaggi di cui ho parlato fin qui sono personaggi che vivono alla corte fiorentina, il Boiardo fa parte di un'altra area geografica e culturale, ovvero vive alla corte ferrarese. Ferrara, Ferrara non è un comune, vabbè con i medici era formalmente un comune ancora a Firenze, ma in realtà aveva un signore che non si dichiarava come tale e che istituzionalmente non lo era Lorenzo, ma qui invece abbiamo i duchi, si tratta di un mondo che ha ancora dei caratteri feudali, anche se questi caratteri feudali sono rivissuti con un senso anche della loro storicità medievale che però in qualche modo viene rappresentata e anche un po' perseguita nel presente. Vi sto in fondo parlando dell'Orlando innamorato, cos'è l'Orlando innamorato? Orlando innamorato è un poema epico e questo è davvero un poema epico perché non ci sono gli elementi material corporei che vi ho descritto fin qui del nostro squisito pulci, anche quando la materia non sembri squisita. È un poema che racconta dei fatti che erano stati raccontati da tutta la letteratura medievale. Ora, la letteratura medievale, la letteratura epico-amorosa anche del Medioevo, fondamentalmente viene, si può dividere in due grandi settori. Abbiamo una letteratura che fa capo a quella che nel Medioevo si chiamava Chanson de Geste e un'altra letteratura che fa capo al cosiddetto ciclo brettone, per intenderci quello dei cavalieri della tavola rotonda, del mago Merlino, Lancillotto, Ginevra e Re Artù soprattutto. Ora, queste due letterature del Medioevo sono diversissime fra di loro, più se volete rozza, ma anche di quella rozzezza che poi non è tale, che traspare da monumenti come l'Iliade, quindi spirito epico, autentico, purissimo, è la Chanson de Geste. Di cosa parla la Chanson de Geste? Noi ne abbiamo intera una sola, la Chanson de Roland. Chi l'ha scritta? Bah, sì c'è uno che alla fine, Tupino, dice l'ho scritta io, ma non si sa se l'ha scritta o l'ha semplicemente copiata, non siamo sicuri di conoscere l'autore. La Chanson de Roland è un meraviglioso testo in francese antico, Langue d'Huille, in cui si racconta un episodio epico e che diventa qui ciclopico, che in verità pare fosse stato poco più che una scaramuccia, è lo scontro fra la retroguardia dell'esercito franco in Spagna e i montanari baschi, qui invece diventa uno scontro fra Carlo Magno e il suo esercito e i Mori. È uno scontro in cui però non è protagonista Carlo Magno, ma Rolando che con pochi cavalieri preferisce morire e sacrificare la propria vita piuttosto che chiedere soccorso e ricorrere al famoso corno che una volta suonato avrebbe prodotto l'arrivo dell'esercito imperiale. Lo suona quando ormai tutti sono morti e anche lui sta morendo o sono in procinto anche gli altri di morire. Quali sono i grandi temi? Gli unici temi in fondo della Chanson de Roland sono la fedeltà alla patria e all'imperatore, la fedeltà alla fede e direi basta. La douce France, sono prodotti francesi, la dolce France. Mentre il ciclo Bretton è un ciclo romanzesco, ci sono amori, anche tresche d'amore, una tresca sublime se volete, è quella fra l'Ancilotto e Ginevra. Ginevra è la moglie di Re Artù e l'Ancilotto e Ginevra hanno una relazione extraconiugale, la chiameremo oggi, un'espressione un po' ridicola, ma insomma. E vi dirò che fra l'altro fu, come si racconta nel romanzo arturiano, fu proprio la regina a prendere l'iniziativa, no? Sapete che questo tema fu talmente diffuso nel Medioevo che Dante lo cacciò nella storia di Paolo e Francesca, quando descrive addirittura il momento in cui Paolo e Francesca, presi da questa storia d'amore, si baciano senza avere nessuna intenzione di farlo, no? E addirittura Dante dice Galeotto fu il libro che lo scrisse, Galeo, cioè condanna l'autore per aver raccontato questa storia e quindi aver dato una sorta di esempio da seguire ai lettori. E che cosa fa il boiardo? Il boiardo per la prima volta nella storia del poema cavalleresco fonde questi due temi, cosa che fino a quel momento non era mai avvenuto. E scrivendo un poema grandissimo e di meravigliosa lettura perché c'è uno spirito tardo medievale, il boiardo era un conte, era un aristocratico, uno spirito tardo medievale che poi scomparirà e che per esempio non troveremo più fra le tante bellezze che pure troviamo nel poema dell'Ariosto. Le ottave del boiardo, sapete cos'è l'ottava? È lo strumento narrativo di questi poemi, cioè sono delle strofe di otto versi che finiscono con la rima baciata, cioè gli ultimi due rimano fra di loro. Queste ottave sono un po' cigolanti, non sono meravigliosamente oliate come quelle dell'Ariosto, ma danno un'impressione del tempo, di questo tempo che sta fra il Medioevo che sta finendo e un umanesimo che non è ancora, se non in alcuni centri come Firenze, è del tutto assestato. È un'Italia del Quattrocento che è un'epoca ancora mobile in cui non tutto si è, come si può dire, si è saldato in un'immagine unica. Non c'è mai un'immagine unica di un'epoca, ma diciamo che in questo senso il Quattrocento è un'epoca estremamente sperimentale e ricca di prodotti anche molto diversi, come forse state anche capendo da quello che vi sto dicendo fra di loro. L'Orlando innamorato è un poema che riprende il tono parlato che era tipico dei cantari del Medioevo, tant'è che appunto si sente che lui lo racconta, non lo racconta come si racconta un romanzo, no? Giorgio uscì una mattina all'alba, no? Si rivolge ai signori che lo stanno ascoltando, quindi una corte feudale, e gli dice adesso io vi racconto quello che è successo. Questo tono diciamo discorsivo, ma nel senso dialogico quasi, del racconto, sarà ereditato dall'Ariosto, no? L'Ariosto comincia, le donne, i cavalieri, l'amo e gli amori e poi ogni tanto signor si rivolge ai suoi lettori che in realtà sono gli ascoltatori e quindi poi lettori, no? Quindi c'è questa presenza del rapporto parlato nel poema. Poi l'Orlando del Boiardo inventa questo sistema narrativo che è poi la ricerca, la cat, no? Cioè in cui continuamente il filo del racconto si ferma, riprende, si sfrangia per vie laterali, poi si ritorna, poi il poeta lo lascia, dice ai suoi ascoltatori, aspetti, aspettate, fermiamoci un attimo, adesso vi racconto un'altra cosa, no? Cioè questa narratività un po' da viaggio favoloso, per dire così, che poi anche questa verrà ereditata dall'Ariosto, che avrà poi tanto di suo da aggiungere naturalmente, e che diventerà uno dei modi della narrativa europea, fin quasi ai nostri giorni, no? Qualche volta leggendo Borges, che è il grande scrittore sudamericano, che tutti conoscono, si ha l'impressione che qualche saggio di Borges, poi in Borges non si capisce mai se sono saggi o narrazioni, perché i generi non tengono, vengono fusi fra di loro, ripetono però questa idea del percorso di questo tipo, no? Inframmezzato da resti, deviazioni, finché poi si ritorna sul filo, no? C'è un famoso racconto di Borges che potrebbe addirittura leggersi in questa chiave. E comunque, a parte queste novità tecniche del nostro scrittore, la lingua, scusate, a parte queste novità tecniche, si tratta di un capolavoro. In che lingua scrive il Boiarto? Scrive una lingua padana, abbiamo detto Ferrara, sapete che Ferrara è una città che linguisticamente, sarebbe Emilia, ma linguisticamente Emilia fino a un certo punto perché risente appunto di una coine, di una comune padana di cui fa parte anche il Veneto naturalmente, quindi è una lingua molto colorita, una lingua che ha toni del parlato addirittura scanditi da un'appartenenza regionale. Vi dirò che questo, questo aspetto linguistico del Boiardo, in un primo momento viene ereditato dall'Ariosto, ma poi le cose cambieranno. Sarà anche interessante vedere perché cambieranno e come cambieranno, ma questo sarà l'argomento di una prossima lezione. Vi ringrazio e vi ricordo che trovate sul web tutti gli approfondimenti e tutte le risposte alle vostre curiosità. Grazie, arrivederci.